Grande prestazione della Sirsicom a Monini-Perugia nella seconda giornata della bolla di Champions League. Al Palabartoni i Block Devils hanno superato 3-0 Civitanova, 25-21 il rimonte al primo set, 25-18 e 25-21 gli altri due mai in discussione. Il sestetto di Aynan sale così a quota 12 e oggi contro Tour vincendo strapperà l'accesso alla fassa d'eliminazione diretta.